la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati con il consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa oggi venerdì 6 novembre partiamo come di consueto con i titoli del mattino vediamo la prima pagina nazionale l'apertura anche i giudici bocciano Trump Biden sicuro di vincere respinti i primi ricorsi del presidente i fan in strada armati 600 arresti conteggi a rilento risultato ancora non ufficiale in 5 stati ma il candidato democratico è avanti e poi il personaggio gio è quella vita segnata da troppe tragedie familiari verso la battaglia legale il destino degli stati uniti nelle mani di 6 persone poi andiamo a vedere di lato lo scenario casa bianca cosa cambia con Cina ed Europa e poi il paese diviso se in America salta il patto delle regole ora invece andiamo sul centro pagina dedicato in questo caso al calcio Europa League rimonta Napoli ma che fatica Gattuso siamo venuti in gita vittoria a Reieca con Demme ed un autogol e poi cambiando argomento le interviste del mattino in questo caso a Walter Ricciardi parametri troppo confusi Napoli resta da zona rossa il consulente di Speranza divieti dati vecchi e ne bastano 4 cosa si può fare in Campania Salerno e Pozzuoli spunta il divieto di passeggiata il sud calpestato Calabria senza terapie intensive a Milano 1,5 miliardi per lo sci di taglio basso invece c'è la cronaca Casalnuovo Simone pugnalato alle spalle il mio amico voleva salvarmi il racconto shock del ragazzo ferito piange a dirotto mentre ricorda Simone Frascogna l'amico ucciso a coltellate per futili motivi in una folle serata a Casalnuovo voleva difendermi racconta Gino Salomone è uscito dall'auto per aiutarmi loro sono fuggiti lui era a terra tre le persone arrestate per il delitto ed ora cambiamo pagina ma proseguiamo sempre con il mattino andiamo a vedere il primo piano è dedicato alle elezioni presidenziali in America dai giudici primi stop a Trump Biden dice vincerò ora state calmi procede a rilento la conta dei voti Nevada e Arizona dove l'ex vice di Obama è in vantaggio le corti del Michigan e della Georgia respingono i ricorsi del tycoon testa a testa in Pennsylvania vediamo nel dettaglio le accuse di frode che Donald Trump sta accumulando contro il Nevada e la Pennsylvania sono state rintuzzate dai funzionari dei vari stati così come i ricorsi presentati in Michigan e Georgia e respinti dai giudici nel frattempo Biden è apparso in pubblico per parlare vincerò dovete stare calmi dice aggiungendo poi ho appena concluso il briefing insieme alla senatrice Kamala Harris sul covid ci stiamo avvicinando a 240.000 morti ma il pressing di Trump ha comunque avuto l'effetto di spingere le commissioni elettorali a procedere con i piedi di piombo noi non possiamo aver fretta ha reagito irritato il responsabile elettorale nel Nevada alle domande dei giornalisti che gli chiedevano ragione della lentezza dello spoglio delle schede l'unica cosa che ci interessa è di contare ogni voto e di accertarci che non ci siano stati errori e che magari qualcuno non abbia votato per corrispondenza ma poi si è anche andato al seggio e abbia votato due volte e ancora la strategia del presidente mette pressione agli scrutatori tutte le schede verificate con attenzione il candidato Dem come già ribadito dice stiamo lavorando con la Harris sull'emergenza covid ad oggi siamo ad oltre purtroppo 240.000 morti lasciamo anche questa pagina andiamo avanti sempre sull'argomento presidenziali USA Donald non si arrende mezza America è con lui andremo sino in fondo il presidente fa causa per frode elettorale in Georgia Carolina del Nord e Pennsylvania nel voto è riuscito a tenere oltre le attese della vigilia e ora twitta fermate la truffa una causa per frode elettorale in Georgia una nella Carolina del Nord ed una in Pennsylvania e poi la richiesta ad un giudice federale perché fermi il conteggio dei voti in Michigan Trump è in difficoltà per le schede tardive che arrivano con la posta e che alzerano il vantaggio nel voto dei tre stati ma continua a battersi con determinazione che i suoi sostenitori conoscono bene e twitta stop the fraud fermate la frode in atto il presidente che nel voto ha comunque tenuto oltre le attese non si rassegna la notte di martedì si è proclamato vincitore nei due giorni successivi si è giudicato la vittoria in Georgia e in Arizona mentre gli scrutatori stavano ancora aprendo le schede i democratici lo accusano di voler negare la realtà ma questa è una delle risorse che lo hanno sostenuto negli ultimi 5 anni ha gestito la Casa Bianca con un consenso che lo ha accompagnato per tutta la durata del suo mandato ed intanto alta tensione nelle città 600 arresti al Milwaukee spuntano anche le armi molti fermi tra gli osservatori con le pistole chiamati per vigilare sullo spoglio marcia pacifica a Manhattan lasciamo anche in questo caso andiamo a vedere la pagina del mattino dedicata a Salerno e provincia la pandemia in primo piano contagiati 200 sanitari il virus corre in corsia incubo per medici e infermieri Sarno infetti al pronto soccorso positivi il presidente della provincia strianese ed il consigliere regionale Pierro Salerno Lusca alla Vigor circa 200 sanitari contagiati nel Salernitano il numero che emerge da una rilevazione effettuata dalla CGL tra le strutture di Asl Ruggi e del privato accreditato si aggiunge il caso di una pediatra a Capaccio emersi ieri anche Salerno avrà la sua usca per l'effettuazione dei tamponi e l'assistenza domiciliare sorgerà nella piscina Vigor di Via Lende aumentati i posti letto al Covid Hospital di Agropoli che giungono a 30 si registra una leggera fressione seppur l'incidenza resti sempre alta sono 392 i tamponi positivi e poi la tragedia ex vigile muore dopo 10 giorni di Calvario tra gli ospedali ex sotto ufficiale della Polizia Municipale di Battipaglio ucciso dal virus Salvatore Cersosimo 74enne battipagliese deciso tutto dall'alba di ieri all'ospedale di Eboli dove raggiunto lunedì e poi la sicurezza lungomare Santa Teresa e Villa Offline Limits nei weekend a Salerno ovviamente sempre di lato la scuola le elezioni restano a distanza i presidi non è tempo di tornare in aula dicono e poi la giustizia gli avvocati contro Buonafede non può bloccare concorsi ed esami sul centro pagina poi la protesta i commercianti in piazza è chiusi ma a porte aperte gli invisibili a Portanova di Salerno zona Portanova di Salerno e poi c'è l'inchiesta Beleni sversati nel Sarno ora si indaga sui comuni blitz del Noe nel mirino fogne abusive e mancati allacciamenti ai depuratori non c'era il procuratore centore non ci rassegniamo e poi altre inchieste mercato di Pagani pit stop spaccio tra la frutta e la droga per la Sicilia 5 arresti 1 a Capaccio di taglio basso violenza il barista nega le birre dopo le 18 due giovani gli spaccano la testa folle ride a Vallo della Lucania poi c'è il caso per quanto riguarda l'argomento calcio Diuric spese folle con la sua carta incastrato il ladro serie B carica Castori si parla di campo in questo caso Salernitana imbattuta sfide in trasferta la corazzata Spal e invece ora lasciamo momentaneamente il mattino e andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano la città l'apertura De Luca Ordina a Salerno lungo mare chiuso il governatore consiglia il sindaco Napoli esegue nel weekend sarà proibito passeggiare anche in villa comunale in barba al decreto conte in campania scuole sbarrate e autocertificazione per spostarsi tra le province dialisi e covid la tragedia addio salvatore resta la rabbia anziana infetta a Sarno non trova un posto letto muore dopo soli otto giorni a Pagani asse camorra mafia tre arresti al mercato a Sarno il fiume dei veleni si indaga sugli enti a Vallo della Lucania negozianti aggrediti nei guai due persone e ancora il caso strianese contagiato scatta l'allarme tra i primi cittadini ad eboli 17 positivi stop per bonifica al centro Elion e poi di taglio basso invece c'è il calcio con la salernitana stasera Granata a Ferrara esame da grande Castori sfida la spalla il primato andiamo a prendercelo lasciamo anche la città e vediamo ora la prima pagina del quotidiano le cronache andiamo subito a vedere De Luca istituisce il divieto di passeggiata Napoli sindaco di Salerno prontamente obbedisce lungomare villa comunale off limits aumentano i contagi in città positivo anche il presidente strianese e poi l'Umberto I ginecologo aggredisce il direttore amministrativo ancora sul centro pagina commercio la protesta degli invisibili in piazza Portanova il sitino della Conf commercio e poi salernitana in campo stasera la sfida con la SPAL Castori pensa da grande e a Cava dei Tirreni Servalli sindaco di Sertel Flash Mob per l'ospedale ora invece ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità ma torniamo tra pochissimo con la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco ben ritrovati con la seconda parte della nostra rassegna stampa ricominciamo con le pagine del mattino dedicate al salernitano andiamo a vedere il primo piano dedicato all'epidemia e all'istruzione i presidi fanno rete non è il momento di tornare in classe didattica a distanza i dirigenti scolastici favorevoli alla nuova ordinanza di De Luca ancora troppi contagi concentriamoci per contrastare il rischio dispersione la scuola non può riaprire non ci sono le condizioni di salute e tutela degli studenti e dei docenti parola dei presidi salernitani favorevoli all'ordinanza di proroga della sospensione della didattica in presenza ad annunciare la nuova ordinanza sono stati il governatore Vincenzo De Luca e l'assessore all'istruzione Lucia Fortini che ha comunicato ai presidi il prolungamento della sospensione didattica in presenza la curva dei contagi preoccupa i presidi che comunque continuano a tenere aperte le scuole per il normale funzionamento amministrativo obiettivo numero uno è potenziare la didattica a distanza e contrastare i pericoli di dispersione e poi prof idoni all'estero il Tar bocciato dal Consiglio di Stato svolta nell'annosa battaglia dei docenti abilitati in Romania per il riconoscimento della loro abilitazione all'insegnamento un docente salernitano assistito dal legale Salvatore Crisci riporta una sonora vittoria davanti ai giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato il rigetto dell'abilitazione romena da parte del Ministero dell'Istruzione è illegittimo il professore salernitano dopo aver perso il primo round dal Tarlazio è riuscito a far valere i propri diritti al Consiglio di Stato l'abilitazione all'insegnamento in Romania non può essere rigettata dal Ministero italiano quindi vi è una svolta nell'anno saccherello dei docenti abilitati in territorio o meno i titoli ottenuti nei paesi europei sono validi anche in Italia e ancora Prevenzione Mobile targata CertForm 4 test per sconfiggere il virus Eleodoro e Giovanna Mascolo fondatori dell'azienda hanno scelto Maurizia Cacciatori come loro testimonial ed ora lasciamo anche questa pagina ma proseguiamo sempre sulle notizie locali una notizia di cronaca in questo caso ad aprire la pagina nega le birre dopo le ore 18 barista ferito alla testa presi due giovani rom il commerciante segue la norma anti-covid ma loro reagiscono colpendolo con un bastone il sindaco dice ora devono andarsene volevano da bere nonostante fossero passate le 18 l'orario entro cui bar e ristoranti devono cessare l'attività nel rispetto delle norme anti-covid davanti al diniego del giovane barman due ragazzi tra cui uno minorenne hanno dato inizio ad una violenta aggressione scena di inaudita violenza nella serata di mercoledì scorso in piazza Vittorio Emanuele a Ballo della Lucania ad avere la peggio il titolare di una rosticceria Davide Dellisanti finito all'ospedale San Luca con la testa rotta i due ragazzi per sfuggire alla violenza degli aggressori si sono rifugiati in un'ottica solo così è stata evitata la tragedia sono stati allertati i carabinieri della locale compagnia e i militari hanno allontanato i due aggressori e entrambi sono stati portati in caserma per il maggiorenne è scattato l'arresto l'altro è stato rinunciato alla procura dei minori e poi ancora Fiumi, Sele e Tanagro arriva la vigilanza in campo guardie giurate ambientaliste dal Vallo di Diano a Foce Sele arriva la vigilanza sui fiumi Sele e Tanagro grazie ad una convenzione sottoscritta dall'Enter riserva naturale il servizio di vigilanza sarà necessario dalle guardie giurate delle associazioni ambientaliste convenzionate con l'ente saranno involontari a dare manforte alle riserve dei fiumi dei monti Eremita Marzano un problema da sempre spina del fianco per la salvaguardia dei fiumi grazie alla grande collaborazione offerta in questi anni da carabinieri forestali guardie di finanza e capitaneria di porto è stato possibile avviare un efficace contrasto all'azione di diversi nemici dell'ambiente dice il presidente della riserva Antonio Briscione ora saremo in grado di offrire una vigilanza costante e continuativa delle tante aree soggette a problematiche di difficile contrasto lasciamo anche questa pagina ora andiamo a vedere un po' di sport andiamo a prenderci il primato si parla di serie B di calcio Salernitano ovviamente che è impegnata stasera nell'anticipo contro la SPAL il mister Castori dice partita difficile sì ma come tante noi stiamo bene Lopez da forfece a Veseli le assenze occasione per gli altri in campo dopo il riposo forzato non vedo vantaggi né svantaggi 4-4-2 confermato con Diuric Tutino coppia di bomber Giannetti si sta impegnando è in condizione andiamo a vedere la formazione che indente schierare Castori Belek in porta linea difensiva a 4 Veseli e Casasola sugli esterni Aia e John Ber centrali di difesa poi a centrocampo sulla fascia sulle fasce Cupiz e Cicerelli in mezzo Schiavone di Tacchio dietro al tandem d'attacco costituito da Tutino e Diuric e il match è diretto sarà diretto da Pezzuto tanti errori in carriera per il Leccese e praticamente l'anticipo di stasera tra una delle altre retrocesse storicamente tra le favorite per il pronto ritorno in Serie A e la virtuale capolista del torneo con i Granata in attesa dei tre punti del match contro la Reggiana è stato affidato all'Eccese Pezzuto una designazione che lascia più perplessità alla settima stagione dopo le sei trascorse nella ex Canvi il fischietto Pogliese ha commesso in carriera numerosi e gravi errori come per esempio l'incredibile abbaglio in Cosenza Empoli del 26 dicembre 2019 quando non ha visto il pareggio dei Toscani con il pallone che è entrato in porta dei Calabresi di quasi mezzo metro ma sarà il campo a dire di più con lo sport si conclude questa edizione della nostra segna stampa io vi ringrazio per la consuetta attenzione e vi auguro una buona giornata grazie a tutti Grazie.